Raga, non dico ma quanto cazzo è figa Riven Arcade Salve a tutti e benvenuti, io sono Kemot e oggi siamo su League of Legends E dopo aver visto quel gran pezzo di figa di Riven Arcade Che qui, invece, sembra quasi un maschio Passiamo... ma è un maschio No, sì, oh my god Riven Arcade è un maschio, cosa cazzo vuole la centrigia? Riven Arcade in realtà è uno Invece qui è molto figa Qui no Oggi siamo su League of Legends e stiamo provando a rankare Stiamo provando Cazzo mano, scivano Beh, siamo abbastanza bilanciati Abbiamo contro il Fakintalon Ok, mi vediamo Non dovrebbe fare pezzi al Lux Abbiamo due support tank Shen con un po' più di utility forse rispetto a Momo Anche se la gioca bene a Momo Contro Shen Top Riven contro l'isandra è un bel matchmaking In giungla a 6-5 anni potrebbe dare di più il late game rispetto a me Visto la sua ultima Se riesciamo a intunciarla E anche remola, alleluia Ok, si parte Passa su questo se non riesce qualcosa di più Ma steri chiedi? Con la sua spada laser? Cap, amico Cap, amico, amico Benvenuti nella Lambda degli Evocatori Anito e Sisma Anito e Sisma 3, 2, 1, come to western e basta un poco di zucchero e la billola Dalla zucchero e la billola Turnete tu abilità imperiore Una storia da moوي Grazie a tutti. 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 Yeah, sì. Ok, qui. Ono a scuola. E' qui, qui, qui. Io non ho fatto finito. Ecco qua. e 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